Manca poco, pochissimo, Euro Winner Cup si comincia lunedì con l'inizio delle gare, la grande manifestazione del beat soccer internazionale ancora a Catania, la grande capitale, la Champions League del beat soccer comincerà lunedì, andrà avanti fino alla grande finale di giorno 29, la Domus Bet Catania da vice campione d'Europa vuole cercare di andare a prendersi questo trofeo, questa Coppa, non manca nulla alla formazione di Luca Della Negra, noi abbiamo sentito uno dei giocatori arrivati quest'anno che potrebbe alzare di tanto il livello tecnico e soprattutto caratteriale della squadra, Francesco Corosiniti, per lui parlano chiaro la fascia da capitano della nazionale italiana, lo ascoltiamo. Francesco Corosiniti, si continua il lavoro certosino con mister Luca Della Negra, tra tattica e cercare di oleare sempre nel migliore dei modi i muscoli, come sta questa Domus Bet a pochissimi giorni a questa Euro Winner Cup? Oggi finalmente eravamo al completo, quindi si è iniziato a intravedere qualcosa in più ovviamente, perché con la presenza dei brasiliani la squadra cambia, ora abbiamo ancora due giorni per preparare il meglio questo torneo e arriveremo pronti sicuramente. Hai visto l'arena quasi completata, grandissima struttura, questa deve essere la vostra spinta soprattutto con la gente di Catania che deve cercare di sostenervi già da lunedì alle ore 21 contro lo Svolle? Sicuramente, speriamo sarà un'arma in più per noi, giocare in cazza sarà uno stimolo quindi già la competizione è importantissima, giocare in cazza sarà il massimo. Cristal, Braga, oppure bisogna per adesso pensare a Svolle, Bateboris o Veatlas, poi il resto verrà da sé? Sì, pensiamo a superare il girone, poi di squadre forti ce n'è tante, le tre russe, le tre italiane, il Braga e tante altre, la Svizzera, sarà un torneo durissimo sicuramente. Senti, dall'alto della tua esperienza, che tipo di squadra hai trovato la Domus Beta a livello proprio di singoli e anche costrutto di team, di organico? L'organico è importante, se pensiamo che qualche giocatore dovrà rimanere fuori dalla lista dei dodici, quindi il gruppo italiano è forte come è forte il gruppo straniero, ma diciamo che c'è tutto per poter far bene. Cosa non deve mancare? Se c'è tutto per fare bene, qual è l'ingrediente fondamentale? A volte non è facile rispondere, lo dirà il campo, sicuramente l'impegno sarà massimo da parte di tutti, quello non mancherà perché è impossibile, è una competizione così importante, quindi speriamo che non mancherà nulla. Manca come trofeo, mi sembra, sì? Sì, sì, mi manca, l'ho già giocato, però non l'ho mai vinto ovviamente, quindi speriamo bene.